Quella mattina dell'11 settembre 1973 a Santiago del Cile, il presidente Salvatore Allende fu sollevato da un golpe militare del generale Augusto Pinochet. Il generale ed un ultimato a Salvatore Allende doveva dimettersi entro quella mattinata. Allende non accettò, Pinochet diede l'ordine all'esercito, di attaccare, bombardare proprio il palazzo presidenziale, la moneda di Santiago del Cile. Durante quel burrascoso intervento, pare che Allende si suicidò, Cile divenne una dittatura militare di destra, che durò ben 17 anni. Pinochet i suoi perseguitarono gli oppositori, molti di loro sparirono, incarcerati, torturati, morirono più di 2000 persone e furono più di 1000 le persone scomparsi, i cosiddetti desaparecidos. Per molti di loro non ci fu più traccia, non furono più ritrovati. Pinochet in Cile avviò un liberismo sfrenato che consentì comunque di anche avere una crescita economica. Beh, su questo vi dico la mia. Quanto successe quell'11 settembre 1973 fu il cosiddetto golpe sudamericano. Ricordiamo anche il golpe in Argentina, la repressione e i desaparecidos. Persone, studenti, giovani, oppositori, incarcerati, catturati, torturati e molto spesso sparivano. Le loro famiglie tutt'oggi non hanno trovato molte dei loro corpi. Ricordiamo anche il contesto. Eravamo nel pieno della guerra fredda. Da una parte gli Stati Uniti e l'Occidente, dall'altra l'Unione Sovietica con i loro satelliti. Perciò in Sud America erano visti malissimo governi e stati di sinistra, come in questo caso il Cile di Salvatore Allende, un socialista amico di Fidel Castro, il cubano vicino all'Unione Sovietica. Perciò l'Occidente, gli Stati Uniti e ma lo stesso Vaticano non furono così severi nel condannare quelle dittature di destra. Perché in qualche modo, se vogliamo dirlo così facendo, si allontanavano da una possibile influenza sovietica in territorio sudamericano. E non volevano un'altra Cuba, la Cuba comunista di Fidel Castro. E voi come la pensate? Fatemelo sapere. Ciao!